scrivi quadro scritto delle lettere a caso e via ecco ti elena siamo qua con massimo ciao ciao e lena ciao ciao 5 4 3 2 1 e allora lo vedo allora la scena e questo è tipo come se ci fosse un po in alto un grosso barile con sopra una faccia se direi demoniaca che ride ok diciamo il barile impersonato da questa faccia demoniaca che ride e dal barile esce tipo un fluido tipo via di mezzo tra merma e petrolio ok esce e massimo si trova immerso in questa in questo fluido e cerca di di nuotare lontano e nella direzione opposta ok ma il fluido lo prende sempre di più fino a che viene proprio immobilizzato da questo fluido ci dà l'autorizzazione massimo se vibrazione 8 miliardi consapevolezza 199 ps 32 vite precedenti 949 cervello 9.7 allora sono contento delle vite che sono davvero poche e del cervello la ps in vacanza pochissima hai anche della consapevolezza perché quasi duecento vedo proprio che è come se fosse immobilizzata la la ps è molto a seno molto consapevole è molto forte ma a questo questa parte che dopo un po di tempo c'è ok lui si ripulisce no come è successo nelle varie sessioni si ripulisce di parte praticamente senza il liquido ok ma per liquido riparte e dopo un po lo riprende lo immobilizza la ps lì che si immobilizza ok quanto diciamo anche ambito preciso ma comunque in ambito militare il lavoro in ambito militare di massimo incide con questo 8 miliardi allora diciamo che giornalmente non neanche tanto nel senso che appunto dicevano ps abbastanza consapevole forte quindi nella giornata proprio singola un 8 10 per cento ma è come se questo 8 10 per cento poi si stabilizzasse quindi 0 no passa un giorno e 8 10 per cento di abbassamento delle vibrazioni ok quindi il giorno dopo riparte dalle vibrazioni già basse perché rimangono basse e quindi ogni giorno di vengono proprio abbassate di più lino le alza mai sì sì le alza ma le alza però è come se questa cosa come se ci fosse un gancio di traino no che allora viene agganciato c'è questo figlio no quindi diciamo l'ambito in cui lavora lo tira in qua la sua ps molto forte quindi riesce andare in là poi però viene ritirato a furia di essere ritirato non riesce mai a contrastarlo completamente quindi giorno per giorno è quasi come se quando lui è distratto tra virgolette che non è focalizzato sul sul tenere le vibrazioni alte essere centrato probabilmente mentre lavora che sono più basse ok più o meno centrato in quel momento lì viene trainato di più ok quindi poi la ps deve fare un lavoro enorme per ritornare la mano riesce mai a tornare al suo ideale di vibrazioni rimane sempre un pochino indietro immagino che massimo si è andato in ferie l'anno scorso no è andato via due tre settimane non lavora che succede alla fine delle ferie quanto sta la sua vibrazione delle ferie la sua vibrazione era a 183 miliardi di base dopo il primo giorno di lavoro dopo le ferie 123 secondo cammino vanno dal 6 71 53 48 39 36 31 27 24 18 13 e 8 e sotto 8 nuova riesce a tenere li riesce a tenere di è come quasi la perché si la consapevolezza su e alte la ps forte e poi è quasi come se volessero tenerlo lì perché se va troppo giù non è più è come se quella vibrazione quel quel farlo ballare lì per loro sia efficace per il loro scopo ok ma quindi semplifichiamo in generale abbiamo trovato che persone che sono dipendenti da sostanze anche banalmente la cannabis boom la vibrazione una modalità differente perché poi si torna torna su dopo un'ora o due idem la sigaretta idem l'alcol idem il gioco le scommesse per esempio lo sappiamo bene alcuni ambiti lavorativi ma perché l'ambito militare è così velenoso per massimo allora cosa in generale il suo progetto blocco uniforme ok diciamo che in generale tutto l'ambito militare in eterico è adibito a tutta quella energia di militare in eterico è adibita a potrei dire la logistica ok è molto la maggior parte alla logistica delle abduction e del controllo ok proprio attivo delle persone per quanto riguarda l'estrazione dell'energia nelle persone ok ma riuscire ad agganciare una persona così consapevole che riuscirebbe a vivere completamente fuori dal sistema e contrastandosi stiamo quindi facendo anche delle azioni contro il sistema riuscire ad agganciarla è fondamentale per loro tenerla agganciata ok quindi stanno cercando di fare un lavoro molto suddolo quasi come se sai come quando peschi e quando il pesce prende l'amo non è che tiri di colpi sul pesce scappano e quindi tiri piano piano per prendere il pesce ecco così stanno cercando di fare loro per tenerlo agganciato lo fanno in maniera il capo o i candidati premi del posto in cui lui lavora sa facciamo il capo soggetto singolare sa cos'è cosa fa massimo che ha fatto delle sessioni di ipnosi che farei lavori eterici da solo e con noi che commenta i video lo sanno proprio nel fisico se nel fisico hanno un'idea di tutte le persone che lavorano per loro hanno un'idea cioè loro sanno qual è il suo profilo youtube il suo profilo facebook hanno tutto uno storico dei commenti che fa delle cose che dice dei video che vede diciamo in generale non nello specifico in generale finché non è non c'è un interesse proprio vero nel senso succede qualcosa allora loro vanno a pescare proprio nello specifico ma in generale di tutti quelli che lavorano per loro lì dove lavora massimo sanno vita e morte mi s quindi il fatto che loro tengono ancora sotto massimo magari con promozioni a fa parte di un loro progetto al di là di blocco uniforme teniamolo buono ecco diciamo a livello fisico per l'azienda è proprio lo teniamo buona quasi come se loro sanno già di default che quando c'è una persona così che riescono a tenere agganciata la devono mantenere agganciata perché questo fa sì che ci sia meno forza fuori contro di loro ecco anche proprio nel meccanismo massimo prende buono duemila euro al mese ovviamente probabilmente ne prende di più facciamo duemila così siamo contenti questi duemila servono per pagare un suo lavoro e questo lavoro vale duemila euro in realtà la presenza di massimo lì per gli alti vertici della sua azienda quanto vale in termini di esperimenti in termini di quantifichiamolo in denaro 10.000 quindi vale 10.000 più duemila di lavoro d'ufficio se lui se ne andasse toglierebbe 10 mila euro di valore di esperimento parallelo da sotto il culo di 6 e come si chiama il progetto di massimo all'interno dell'azienda diciamo che non no non è un progetto è no no in generale c'è in generale tutte le persone che hanno queste come se loro catalogassero le persone che vanno a lavorare lì a seconda di alcuni parametri no e poi fanno delle categorie quindi la sua categoria diciamo ok persone che riescono ad agganciare in maniera tale che non contrastino c'è questa cosa qua quindi non è che ha un nome non è un progetto ma è una catalogare le persone che lavorano per loro come catalogato massimo e rientra in queste persone che sono direi di possono rientrare nei dissidenti bloccate belle quindi massimo a un etichetta con scritto ribelle entità iteriche sì c'è questo demone e c'è proprio un soldato è quasi come direi questi due c'è un militare che agisce nel primo universo proprio a livello c'è che crea le situazioni ok che però collegato a questo a questa faccia demoniaca del secondo universo è come se ci fosse proprio una parte cioè ci sono proprio questa interferenza che è collegata a supportare la parte militare nel primo universo nel secondo quindi un'unità del secondo universo che faccia diamone si è un demone allora tipo una faccia rotonda nera pelosa con degli occhi allungati e denti aguti un po tipo ecco può essere tipo un lupo mannano una faccia molto simile non essendo un canire no 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 infatti è solo più o meno così poi e niente c'è questo soldato non vedo altre identità eteriche e dl ce n'è uno che fa è il collegamento tra le entità mentali ce ne sono tre e queste tre è quasi come se avessero tre fili collegati a lei da questo dl e questo dl poi è collegato a questo militare e poi a questo demone va bene siccome io sono bimbo matto bombarolo oggi sono bimbo matto io so che massimo è molto fan della signora con i capelli neri dal quale lui è andato spesso a fare delle sessioni che ci viene spesso a trovare a rompere i coglioni non dire però la cena perché non la chiamiamo non dovrebbe venire adesso a dirci che cosa ha fatto con massimo chiamala si cerca di nascondersi un po occhio di buio su di lei in tutta la sua bruttezza perché ride ma come ride vediamo riassumere che cosa ha fatto questa qua no allora ti dico quello che dice no ho cercato di camuffarmi perché se perdo questo questo pesce grosso e poi mi fanno mi fanno il culo dice che cosa significa che questa è dentro il progetto se bene va bene la rimettiamo dove da dove è venuta nel suo bravo mondo chi si signora si signore ai ordini signore entità mentali e novità se con la mia vecchia sessione che non le analizzate oggi finalmente vediamo se ci sono delle entità mentali di massimo sì allora c'è ce ne sono tre e sono una di livello 2 una di livello 4 una di livello 6 anche tutti i pari allora sicura di livello 2 è quella che proprio che lo vedo proprio che a volte gli fa lo fa parlare in maniera molto chiara molto fluida cioè in realtà lui parla scusa in realtà lui parlerebbe in maniera molto chiara e fluida questa entità mentale di livello 2 a volte fa sì che lui non non riesca a parlare proprio no come ci diceva prima che a volte è quasi come se non riuscisse neanche a trovare le parole ok soprattutto lo fa nelle situazioni in cui lui potrebbe essere molto brillante utile brillante utile anche e quindi viene proprio limitato in questa cosa poi c'è l'entità mentale di livello 4 che è quella che agisce sulle sue emozioni vedo che è quella che con i pensieri negativi fa sì che lui tendenzialmente abbia sempre un umore un po negativo cioè quasi come se fosse pessimista non lo so prima vedevo come se lui adesso vivesse in un momento un po tormentato no quasi stufo di stare in questa realtà e voglia essere in un'altra realtà non per le persone che ha vicino ma per le cose diciamo per la routine della sua vita no lo vedo proprio come quasi come se fosse come posso dire il tormento come se fosse sempre un po in un tormento pensiero sono questo tormento questo è mantenuto dai pensieri che l'entità mentale di livello 4 a dimanda quella di livello 6 e questa idea che ci possa essere questa dipendenza dai farmaci no è come se lui da una parte lo sa che non è così no ma poi è come se se non riuscisse a uscire da questa dipendenza perché come se da un'altra parte c'è qualcosa che gli dice no se tu sai che devi prendere la vita perché non puoi uscire da questa dipendenza di questi farmaci questa è un'entità è collegato all'entità mentale collettiva è che proprio i farmaci fanno bene no 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 sono necessario dei farmaci farmaci a vita la chiamerei non puoi vivere senza questi far farmaco esatto va bene impianti è a questo gancio questo impianto e terco che un gancio più o meno metà della colonna che è quasi proprio come se fosse un semicirchio ok dove lui viene agganciato proprio quindi tirate lui spinge sempre al contrario con enorme fatica poi e poi a mente a livello mentale ok a livello mentale a quattro sfere quindi una più o meno dietro agli occhi ok tra i due occhi una dietro all'orecchio sinistra 1 dietro all'orecchio destro è una sullo stesso piano ma a livello della nuca ok e poi a una sfera più grossa in mezzo alla testa con cui si collegano queste quattro sfere poi basta eccetto gli impianti mentali quando sono tornati gli eterici allora dall'ultima sessione sono riusciti a rimetterglielo sei mesi dopo e da lì è iniziato l'agganciare e abbassare le vibrazioni ok chiamiamo nel cinema il figlio la moglie perché perché no vedo tutte e due in prima fila molto entusiasti contenti di essere stati invitati e contenti di ascoltare vedere la moglie dice tu su questa parte tu se ne sai molto di più di me sono molto contenta di non riesco a raggiungerti ma sono molto incuriosi come se dice come se mi mancasse uno strumento e il figlio è il figlio è contentissimo fa i salti di gioia è come se lui le sapesse già queste cose no e quindi dice sì dai papà fammi vedere se sono uguali alle mie ok allora eliminare i farmaci tranne uno l'abbiamo visto lo potrebbe eliminare domani oggi se magari sono solo come lo prende non lo so magari lo vedo più graduale perché il fisico sono troppi anni il fisico si deve abituare lentamente io conosco una persona che prendeva un sonnifero un sonnifero per dormire tipo una pastiglia no sotto sotto gliel'hanno ridotta perché una persona anziana quindi le veniva dato il medicinale le vele veniva sciolto sempre di meno fino a che non c'era più niente era acqua e zucchero e questa persona andava dormiva perfettamente come se avesse preso una pasta perché credeva di insomma effetto placebo quando lo seppe divenne una furia e riprese una pastiglia gestendo autonomamente nonostante fosse una persona anziana così solo che è massimo a gestirsi il trucchetto no no qua è diverso qua è cosciente che lo può togliere ok solo che il fisico proprio ha bisogno del suo tempo se fai le cose come quando se come quando uno perde tanti chili di colpo non va bene per il fisico non va bene per i tessuti non va bene e di solito di perli riprende molti di più ok perché il fisico ha un suo tempo fisico e qua nella matrix ea un suo tempo le cellule hanno bisogno di rigenerarsi con il nuovo schema ok è vero che si rigenerano velocissimamente ma hanno bisogno di calibrare la migliorazione esatto come anche quando io ho iniziato a prendere il caffè da due cucchiaini di zucchero a sempre meno ci ho messo un anno e poi lo bevo amaro adesso lo bevono sempre praticamente ma quando è iniziato bere a 2 cucchiaini di zucchero non sono passato da due cucchiaini a zero sono passato da due cucchiaini a due cucchiaini scarsi 1 e mezzo mesi 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 1 mesi 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 mezzo poi in un lungo periodo una punta di zucco e poi detto ma perché intanto mi sono abituato e ho sentito il sapore del caffè va bene sì qua vedo che può fare il tipo diminuire una volta ogni mese diminuisce sempre di più autoguorigione nel fisico e nell'eterico se allora adesso non so come sia coscienti di quello che fa quando fa l'autoguarigione io vedo che lui proprio quando esce esce da esce anche dal corpo no quando va fuori dal corpo così quasi come se con le mani in eterico pulisse pulisse la parte che fa male ok e si autoguorisce se siete ricco che allora e quindi neanche nel fisico nel senso quello che io vedo che lui può fare magari adesso non è ancora consapevole magari non lo fa sempre in maniera conscia ok ma proprio è come se lui uscisse si guardasse dall'esterno dall'esterno lavora sul suo fisico con le mani ma fammi un esempio di autoguorigione da raffreddore sì sì da qualsiasi costi raffreddore oppure che ne so un infiammazione articolare ecco mi viene no un gomito infiammato che ne sono a tendinite un epicondilite ok questa è la parte fisica ok lui come se uscisse dal corpo e guarda il corpo dall'esterno e con la mano come se pulisse così ok come se pulisse via l'infiammazione l'infiammazione passa anche lì diminui vedo che è come se diminuisse il sintomo giorno per giorno dopo che l'ha fatto ci sono uomini del tempo mi sospetto no magari li vede che tentano quelli che vede allora già prima quando lo diceva io vedo che non lo interferiscono ma tentano ma lui li vede in tempo anche nella d'action è raro che riescano a fare quello che vogliono fare ok c'è un gatto che la prima volta che chiamalo sulle tue gambe mentre me etericamente dicevamo sì allora che per sul filo uomo del tempo sì ok cerca di interferirlo ma anche la dico anche per gli abduction è raro che riescano a portare a termine tutto il loro programma ok di quel di quella d'action di non riescono perché lui si sveglia prima o prima appunto di essere adotto o nel mentre ma ha tipo all'inizio lui fa molto attività onirica si accorge dell'addaction ne blocca le modifica se fa viaggi astrali e viaggi astrali li vorrei analizzare ma tra un attimo ci sono cloni e allora questa è una cosa nuova che non ho mai visto così perché quando hai detto ci sono cloni c'era una sagoma ma non era un clone quindi è come se lo stessero creando e come se stessero creando una copia esatta di massimo ok stanno cercando di ci mettono lentissimo nel senso ogni tanto riescono a mettere un pezzo così ma è praticamente impossibile quindi è lentissimo quindi non è ancora un clone non c'è ma è finita esatto ma quando lui si ricorda di non essere lui è perché provano a mettere in questo clone non finito la sua ps lui si ricorda quell'istante ma no quello io vedevo proprio che era linee temporali parallele potrei dire possibili nel senso che ma ecco ecco adesso è chiaro è quasi come se la ps facesse nel concreto in eterico ok una creazione di quel di la vita della sua stessa vita ma un po modificata come vorrebbe cioè quindi cambiando delle cose che vorrebbe nell'altra maniera ok per farsi di crearla nella realtà qua non so se ho reso l'idea sì ok questo clone dove si trova sia etericamente che magari fisicamente se io direi marte si chi chi marte ci sono vicino a marte intorno a marte ci sono questi basi basi volanti proprio intorno sono collegate a marte ma sono intorno cioè non sono appoggiate su marte ma volano ma mia temporale chissà quale bla 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 ma è collegato anche il lavoro di massimo si è collegato al lavoro lì a un nome questo quasi clone minimo no c'è un numero a un numero 149 sono le tentativi il numero dei tentativi questo è il numero 149 va bene attività onirica viaggio astrale a volte lo gestisce male va troppo lontano quando torna prova dolore soprattutto a piedi e mani io potrei con gli serve in viaggio astrale ma no nel senso che lui probabilmente adesso lo sta facendo la sua ps con lui la stanno facendo come pensando che sia un buon allenamento per aumentare le capacità medianiche ok in realtà ci sono cioè può fa invece che fare proprio il viaggio astrale in sé potrebbe semplicemente fare come faccio io nel senso andare a vedere che è un po diverso nel senso che sei comunque collegato alla matrix quindi non hai il pericolo appunto di sentirti troppo lontano no è come se ci fosse troppo a distanza sento sempre le persone che fanno crescono dal corpo che poi arrivano a un certo punto che si spaventano lui vabbè non ha smesso ma di solito delle persone smettono proprio perché è troppo invece troppa differenza quindi quello che secondo me potrebbe fare è non staccarsi proprio ecco tanto la differenza è poca nel senso che anche così tu senti ma nella sua antica condizione non quella che avrà quando finiremo questa settimana ma quella precedente questi durante alcuni viaggi astrali lui ha offerto il fianco a delle abduction chiedo allora diciamo c'è il rischio c'è il rischio se a volte delle abduction sì sì e a volte anche agli hanno preso dell'energia perché appunto questo a volte questo perdere il controllo di dove si è ok fa sì che ti centri e quindi sei comunque aperto a livello energetico e quindi quello diciamo le interferenze le prendono come occasione per andare avanti con il loro scopo sì quindi diciamo che c'è più questo rischio e perché gli fanno male mani e piedi ecco ti faccio questa benvenuta proprio questa immagine è come se tu salti nello stesso modo da 50 centimetri o da tre metri ok cioè se tu fai il salto da 50 centimetri lo fanno una certa maniera se impari a saltare da tre metri a terra in un'altra certa maniera ok invece quello che succede a lui è che a terra da tre metri come a terra da 50 centimetri e quindi è quello il dolore no c'è entra troppo velocemente troppo buscamente ha capacità mediane che telepatiche poi le può sviluppare le può sviluppare non è ancora capacità ogni tanto nota che le legge nel pensiero o legge la situazione che una persona vorrebbe vivere ok ma un passano così non ecco nel controllo a intuiti intuizioni capacità intuitive si diciamo che molto simile anche facendo tutti no la vedo molto più collegata alla telepatia si potrebbe sviluppare anche quella parte lì si impara a vedere l'energia quindi a vedere più che a spostarsi col corpo ok potrebbe avere anche proprio delle informazioni e la telecinesi si dovrebbe fare un passo indietro però appunto prima e parare a vedere l'energia muoverle ok poi con il ricordo di quando è scelta al corpo in eterico come se l'applicasse anche nella matrix con gli oggetti no ok quindi lo spostamento dell'energia con gli oggetti nella matrix potenzialmente però non lo vedo intanto in questa vita proprio anche il teletrasporto ma non qua allora c'è una cosa da dire di massimo lui spesso mi ha scritto sia nei punti che fuori la ps potuto io lo so io posso io qua io la ok lui però non molla questo lavoro che api essere potuto ma poche in un certo punto lui ambisce un po in maniera secondo me non sana passatemi queste spero questa espressione alla l'utopia ma qua non c'è l'utopia perché questa non è l'utopia il mondo utopistico il mondo ideale la città ideale non esiste non c'è non può esistere perché questa non è per definizione costruzione la città ideale questa è la città in in perfetta nella quale noi possiamo fare delle esperienze se fosse ideale nessuna esperienza allora stavamo nella sorgente quindi sai che alcuni no anche molto conosciuti si sono lì disperati capricciosi vogliono assolutamente tornare la sorgente sempre salito discorso è un incongru è una contraddizione in termini non venivi qui se volevi tornare solo la sorgente se sei qui è per fare una serie di esperienze vincere risolvere ma non dando tutta la responsabilità la ps che può tutto la ps può tutto ma deve essere un sistema coerente di cambiamento quindi la se la ps toglie l'impianto si quindi fa un cambiamento nete ricco c'è un cambiamento corrispondente nel fisico nel mentale nell'emozionale adesso nel suo caso specifico mentre tu hai iniziato a parlare l'arrivata proprio questa immagine la ps può tutto ok ma nel suo caso non è che rimanendo lì la ps può c'è diciamo che nelle se potesse nell'estremo allora arriverebbe a far sì che l'azienda per cui lavora non esistesse più c'è oppure l'altro esatto è quello che stavo per dire no c'è però voglio fare un esempio a tutto tondo quindi nel fisico uno molla al lavoro nell'eterico uno si toglie l'impianto nell'emozionale uno si circonda di emozioni positive non è il caso di massimo ma ipotizziamo che massimo a una moglie sempre lamentosa sempre negativa sempre che critica sempre che vede il fatto positivo negativo e non positivo che se lui cambia la cucina è però era meglio quella vecchia è però chissà quanto è costata capito non è il caso di massimo questo genera emozioni a bassa frequenza tutti i giorni che è un ostacolo può cambiare una persona perché uno sta con una persona estremamente negativa che genera emozioni negative cambiamo l'emozionale cambiare il cambiamento è sempre sano ma sempre anche quando si cambia e si finisce diciamo in una condizione peggiore si fanno due esperienze e grazie alla visione di una condizione nuova peggiore per tornare a una condizione migliore si fa anche una terza esperienza e con il paragone delle due esperienze la peggiore e la migliore anzi la migliore la peggiore in ordine si capisce che quella era la migliore se no non si poteva capire e si capisce anche magari che cosa vuoi nel mezzo che magari non è né una né l'altra ma è una cosa ancora diversa certo con l'esperienza ma secondo me in questo momento la psd massimo sta capendo tante cose è quasi come se non avesse visto che l'essere forte e per contrastare l'energia del suo lavoro no del suo lavoro che sta che fa adesso era o distruggere il posto dove lavora però a questo punto tanto vale andare da un'altra parte ma questi sono i film mettono la bomba e scoppia la figura che nella matrix non gli porterebbe niente di buono no nel senso distruggere non intendevo fisicamente così ma è come se in eterico la ps potesse creare qualcosa che fa sì che la sua azienda vada a scomparire sia un fallisca o ma volendo può ma sì però se cambia cosa cambia no ma però è di miglior certo il lavoro e la ps che fa questo è fatti c'è per miracolo e c'è però di metterci un'attente una energia che c'è sprecata senso ma il risultato di altre cose non ha più quel lavoro no comunque quindi la via più breve più veloce un comoda più efficiente meno 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 fatica poi se lì dentro fanno delle robe illegali una volta che ne è uscito li va a denunciare esatto una tax force ma non è così ovviamente quindi non lo può distruggere quel posto non lo può far chiudere no magari chiuderà da solo un troppo chi lo sa intanto li toglie la sua energia da quel posto e la depotenzia del posto esatto non c'è solo tutti esatto esatto quindi uomini nel tempo non ci sono c'è un quasi club e i viaggiastrali b si servono ma un po lo espongono esatto esattamente le capacità di anni che ci sono sì ci può anche essere la telecinesi e va bene la pulizia dalle entità eteri che si mentali anche l'abbiamo fatta se la stiamo l'abbiamo fatta per fare e l'autoguore giorno va bene una vita parallela precedente di massimo quella che più esplicativa nella condizione che stiamo realizzando sì allora quello che mi fa vedere lui che era un militare durante la guerra in corea con questo profondo odio per quello dove in cui si era trovato dentro c'è lì ovvia lì era stato obbligato ad andare a fare militare ea fare la guerra a un certo punto in quel momento lì lo vedo proprio che urla e piange dalla rabbia per essersi trovato lì allora poi vedo che riesce in qualche modo a fuggire ma ci ha messo anni e anni a riuscire a tornare a una vita normale senza essere diciamo condannato è come se lui avesse voluto in questa vita a riprendere quel discorso per cercare di annientare questa parte non ho capito allora il fatto che lui dice ok la ps può tutto è quasi come se fosse la ps si fosse posta l'obiettivo di annientare tutta questa energia militare dall'interno riprendendo quella rabbia e quel rancore che ha avuto da quella vita la oggi però io vedo che oggi la ps ha capito che non ha senso che questa esperienza che quell'esperienza la non ha più senso cosa vuole fare massimo finalmente definitivamente lui che non voleva essere qui oggi cosa vuole fare sì scusa stavo già guardando la scena è già la rastera cosa c'era nel cluster come sono i contratti se ci sono se c'è solo una piccola parte di contratti sono fatti da un arco ogni ogni vita è un arco con le frecce c'è solito angolino dove ci sono questi che ho pochi contratti se portare definitivo riprende ti putto a tutti bello perché tutti assieme li tira tutti assieme a tutti assieme al centro dentro portare definitivo e poi lo chiude facciamo di creare una d'eterno questa cosa nuova un sole di energia un emettitore di energia personale che funziona per sempre se lui lo desidera che solo lui può toccare spostare aumentare diminuire eliminare se così pazzo da volerlo fare glielo mette qui a guardia del suo cluster e potere molto potente fatto si è messo in mezzo si 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 l'ha messo in mezzo e proprio esce proprio un'energia bianca molto potente vivrà molto alto fatica quasi a guardare più del solito ma ne ho visti qualcuno così ma rai c'è se non è l'unico ma ok non è da tutti avatar no no sì questo piccolo spicchietto portare definitivo sta dentro chiude ok messo entità mentali ci sono no secondo universo soldato e dl ci sono altro che non l'abbiamo visto quasi clone no impianti no blocco uniforme no attuale vibrazione 395 miliardi 90 quindi 400 quindi molto più di un tre mesi di ferie consapevolezza 208 poco di più vabbè era già un po si era alta yes è in questo momento viaggia alta 73 vite precedenti erano 949 493 metà cervello 10.4 quanto può alzarlo facendo cosa fino a quale livello massimo sì allora una cosa che la sua ps vuole proprio puntualizzare è stai proprio attento alla tua tendenza a fare le cose iper quando c'è quando a livello energetico ok quando alzi le vibrazioni o vai a fare i tuoi viaggi non esagerare perché questa differenza è quello che poi ti frega il termine ti frega nel senso che poi altissime le vibrazioni e poi scende di colpo e può rischiare di essere agganciato da interferenze quando va giù basso ok quindi imparare proprio a alzarle piano piano pochino alla volta perché in questa maniera poi riesce a tenerle alte sempre di più e poi dopo può può stare in alto ma poi non c'è la differenza e quindi il pericolo è quasi azzerato di essere interferito no questo è in questa maniera può pian piano allenare le sue capacità mediane che quindi ripete come dicevamo prima iniziando dal utilizzare l'energia intorno quindi anche sentire l'energia anche degli oggetti delle persone ok iniziare a vederla il campo energetico anche intorno alle persone quindi vedere laura anche delle piante degli oggetti ok poi l'altro passo è proprio modularla con le mani ok vedere come 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 si muove se lui gioca con le mani ok e poi proprio il passo successivo e vedo proprio che come se lui vedesse campo energetico degli oggetti no ok e con le mani lo rimodula dall'altra parte e questo fa sì che ci sia la telecinesi e con questo pian piano sviluppa anche la telepatia perché funziona nella stessa maniera no quindi è come se lui vede l'energia vedendo l'energia sa cosa lo traduce in parole in automatico ecco messaggio finale di massimo a se stesso allora lo vedo giocare tra virgolette con il suo figlio all'aperto con questa modulazione dell'energia è come se facendo questa cosa con il suo figlio per lui è molta più e molto più efficace consone molto più consono a lui ok quasi come se come posso dire quasi come se la modalità del bambino gli ricordasse a lui la giusta modalità no perché quasi come se fosse più semplice meno meno pensata meno strutturata no e quindi viene più spontaneo mi dice proprio così vedrà più facile ti può fare anche un'arte marziale insieme al suo bimbo per poi da fare poi all'aperto dai cioci con questo e poi vabbè ovviamente fondamentale è fondamentale che il cambi lavoro quell'energia lì è quella non c'è verso la moglie come la vedi la moglie di che dice come vorrei fare tutte queste cose anch'io può fare se lo vuole far male il fisico deve trovare clic clic per fare il passaggio vabbè tu come lo vedi lo vedo che si muove in aria fa movimenti tipo ecco così in aria è come se sei quando fanno capoeira ecco in aria sta facendo questo va bene